Icaro, ti sta inviando un nuovo congegno. Spero che ti sia utile. Questo elettromagnete è davvero interessante. Con l'addestratore puoi imparare tutto sulla magia dei magneti. Vuoi accedere adesso all'addestratore? Andiamo! Ah! Ah! i nemici qui dentro indossano caschi protettivi di metallo usa il magnete per strappare i caschi da quelle pestifere teste quando non avranno più i caschi potrai sconfiggerli con un attacco salto mortale ti ricordi questo attacco salta in aria e premi il tasto l3 andiamo Oh no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ci vediamo! Buon appetito! Sì, non è vero. ci vediamo non c'è problema non c'è problema questa città è piena di nemici difficili da sconfiggere quindi abbiamo costruito per te questo carro armato per entrare nel carro armato saltaci sopra lo puoi comandare come un vero carro armato per andare in avanti spingi verso l'alto entrambe le levette analogiche allo stesso modo spingi entrambe le levette analogiche verso il basso per andare in retromarcia se spingi verso il basso una sola levetta analogica il carro armato sterzerà in quella direzione premi il tasto l3 per azionare la mitragliatrice e il tasto r3 per sparare con il callone non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.